No, ieri ho fatto questo incontro con Roberto Clemente, c'era pure Anna con me, abbiamo fatto il piatto alla volta, dice Anna non ti preoccupare che si dimette, in modo tale che l'ha sentito Anna e lui dice ma che fai, scherziamoci, c'è la mia parola, l'accordo, stancherebbe, ma a posto, io ti volevo fare la guerra anticipatamente, grazie, un regalo quando me lo fai, una settimana che ci vediamo, ok, la posso fare tranquilla, ma sono anche va parlando assai però, sono gli amici che mi spingono, no, 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 anche non amici, va parlando,